oggi siamo su benten cosmic di strada e strada io ho stato subito con i tasti della playstation lo sceglie anche il nome è ovvio che shadow no sbagliato è difficile scrivere con stita che becca due insieme non è un canale c'è la sua ma è questa sì no no ah vabbè new game ma ovvio ok il gioco in inglese ovviamente andiamo devo andare un po' più lenti mi sa eh non vedo se non c'è un film di scatti non va bene vai ok ok questo è un discolomico ah così che è successo no il pubblicino pure partono se ne frega cioè accettiamo tutta eh no 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 vabbè preghiamo subito non ce ne frega niente noi ah abbiamo ah ah questo che sembrava da questo cioè ecco ecco vabbè che vabbè go go forte forte che prega che prega o musauro che è forte già di suo spaccando le cose escono altre cose poi c'è fango fiammante e infine vortice vortici in teoria pura sì che così mi possiamo ok si spettano tutti quanti vasi ci sono pressi oddio pensanti super c'è fai colpi tipo figata nella tirata molto male con dei nemici io andrei batterli con che qui c'è una cosa va bene intiamo forte dai anche altri alieni vabbè non ci rispondiamo che figata no si va bene lui vedere se c'era un altro devo start in pausa avanti non pensi ci sono atti tassi simi trasformati che vediamo subito ok si l'ho notato potendo trasformarmi bene devo salire lì sopra che lui non ha chiedo però ce l'aveva ce l'aveva la pubblicità a mettere la videocamera messa bene che vuol fare vabbè penso ce l'abbia ecco ecco no però ce l'aveva cosa dice c'era anche fango fiammante però andiamo con vortice ottimo ecco cosa cos'è non hai capito sono delle mosse speciali figata ok facciamo no andiamo con qualcun altro tipo due non è mai al combattimento vabbè voi che dovete morire intanto no muori ho detto vabbè voi deve essere una cosa non so se mi... aspetta ma non vedete ci sono gli upgrade mi ne ho c'è non so andiamo a caso ok ecco 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 ci possiamo che è la scuola ok che è la scuola che ti diranno in battaglia nei puzzle cronin energia sonica cioè che fanno danni tramite l'ersonar ok gli attributi velocità forza e ok vabbè sono anche altri alieni poi volevo vedere anche no aspetta no aspetta no vabbè faceva l'auto no no io volevo andare indietro vabbè vorrei vedere che altri alieni stavano comunque nel posto di... no comunque va bene magari il posto di vortice c'è armadillo questo non mi ricordo mai come si chiama eh c'è anfibio elettrico sparacqua e gelone ah ci ci impariamo io andrei di gelone dai però volevo cambiare anche lui mi metto no eh no li voglio grazie va bene lui vola vola ma non vola però vabbè è figo comunque che mosse hai tu? figata natura anche i super calci tipo vabbè tutto più salto almeno qua mi serve vortice sì terra spin vabbè è morto? no vabbè visto che c'entra col fuoco non ti era lava no? visto che era lava qua va bene credo che sia meglio per il momento togliere scimparagno e metterci a fango fiammato l'ho fatto fino almeno non riesco mai i tassi sono un problema la teoria dovrebbe andare fango fiammato dovrebbe essere un tizio che che resiste alla lava allora ho direttamente a questo modo vai no ho fatto eccolo l'ho fatto fino almeno aspetta ah omosauro ok venga un attimo c'è qualcosa qua intorno qui c'è qualcosa no ah spaccarlo tutto ok ah vado è già con 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 l'ultra eh ok botte in ultra vai lancia i missili vai e che per chi non sapesse omosauro è una versione mega lancia i missili ah ma c'è tipo la la c'è tipo l'aura limitata tipo l'aura deve essere quella blu immagino quella quella arancione sia la salute allora vediamo altre mosse tipo questa bella combo qui vabbè si rilancia l'ultimo questo ah si arrabbia ok però adesso è parato intanto non penso serva ok dai 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 giusto non c'è ancora questo qua c'erano i vasi anche vedo ah ok ho tolto il coeco e mi serve per lui no andiamo vai come gli clericaroni aspetta figata vai fai qualcosa fai qualcosa tu va bene tu mi vedete a dare una bravo andiamo ottimo adesso vado con con lui si giusto si no con lui ma con lui mica ma anche lui lo doppio salto in realtà e per lui vuole meglio lui ottimo io il parkour proprio forse ho un piano ok 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 ah ce la fa devo rompere quali oggetti cioè oltre a loro ah le tombe queste qua ne stavamo una pure qua prima forma piccola tipo aspetta ce l'ho forse lui è piccolo in teoria ce la dovrebbe poter fare pacca si è piccolo qua ah ok no non mi fa diventare altri che peccato ok dove andare con lui ma lo ma lo ha preso come scusa lo dovrei mettere ah c'è una cosa che lo devo mettere qui si ottimo vai utilizzare zitto Kevin non è momento allora ma c'è un alieno che corre Ivo lui no lui non corre neanche lui corre però dai dai no sempre giusto si parte si parte si parte un momento no dai da ah per vedere no andiamo con lui che corre almeno mi sembra che corre non corre ottimo ok devo fare entrare questo coso lì dentro ok non c'è cosa intorno si entra qui poi tu giusto che sei nano puoi entrare si è entrato si rompio per un po' niente comunque lascia un attimo mettere di qua fatto si andiamo un triangolo ci si para così faccio giusto no ah ok lui non può lui penso di si non può tutto fuori no ok adesso si passa alle maniere forti fatto fino a un minuto dai ok ah non tutti sono vere ok come serve uno molto agile no si come serve uno che vuole immagino esatto c'è un checkpoint qui non dove c'è un qualcosa che pensa che possa fare anche lui dai no parliamo con gli alieni quelli dell'inizio ovvero homo sauna e mi dispiace ma ecco ecco anche se è fri comunque così qui c'è qualcosa immagino no sì c'è una cassa e c'è è un oggetto da collezione ok anche da punti buono c'è qualcosa da rompere anche qui però se riesco a vedere sarebbe meglio no non si vede c'è un combattimento finale sono sì mi sembra uno stadio da rotta finale lo abbiamo capito grazie perché però è molto lento lento non sa comunque dai andiamo andiamo dov'è che ok veloce non lentissimo uno che ci arrivi alla leva è un'altra cosa ma quanti sono e andiamo terra spin era qui una vera ok poi sembra che questo qui era vero sì ma san castello di sotto lo stesso ma che salto ho fatto poi saltando un altro ma ma c'è gli occhi strani di one day nel guscio che ti guarda ma malissimo si possono rimettere no tu che se no non ci arrivi corri questo questo poi questo l'ho visto sono i fantasmi quando era questo ma posso sapere cosa cosa pina successo no non darò bene allora e non pure fin e penso di chiudere chiudere il nostro episodio qui e ci vediamo alla prossima ciao ciao